Ecco l'atrio con il tablino della casa del fauno di Pompei, che prende il nome da questa statuetta che raffigura appunto un fauno, un essere divino per metà umano e per metà caprino. I fauni vennero progressivamente identificati con i satiri greci. Sullo sfondo dietro alla statuetta c'è il peristilio, che qui però non si vede per niente. Questa casa era particolarmente grande, arrivava a circa 23.000 m2. Questo è il peristilio con il giardino ricostruito della casa dei pittori al lavoro. Gli scavi hanno infatti permesso di individuare le aiuole, delimitate da vialetti in terra abbattuta e da una recensione di cannucce, e così è stato possibile ricreare l'originare a disposizione. Infine questo è il peristilio con giardino della casa dei vetti, dove sono presenti delle fontane. L'acqua zampillava ad alcune statue, come quelle che vedete sui lati della foto. Un'altra tipologia di abitazione erano le case a schiera, che erano abitazioni unifamiliari poste una accanto all'altra all'interno dello stesso isolato, abitate prevalentemente dai liberti arricchiti, cioè gli schiavi liberati che avevano fatto fortuna, ma anche da commercianti artigiani. Sono organizzate secondo uno schema simile a quello della Domus, ma molto semplificato. L'atrio era coperto, perciò privo dell'impluvio, e intorno si aprivano quattro stanze. Poi c'era il primo piano con i cubicula e altri ambienti di servizio. A questa stessa categoria di case piccolo-borghese appartiene la nota Casa Graticcio di Ercolano, che è un'abitazione a due piani con parti sporgenti sulla strada. Le murature, realizzate in pietra e malta, sono sostenute e rinforzate da un'intelaiatura di legno, e questa è una tecnica di soprelevazione a basso costo. La Casa Graticcio è concepita per ospitare più famiglie e dunque concettualmente si avvicina all'insula. Passiamo ora ad una tipologia di abitazione un po' particolare, molto complessa, anche per quel che riguarda la sua evoluzione nel tempo, cioè la villa. James Huckerman scrive che la villa è un edificio che sorge in campagna ed è finalizzato soprattutto a soddisfare le esigenze di svago e di riposo del suo proprietario, anche se essa può costituire il nucleo di un'azienda agricola. Gli autori antichi, infatti, come Orazio, vissuto nel I secolo a.C., ci parlano del fatto che la campagna è il luogo ideale per l'ozium, termine con cui si indica il tempo libero da spendere in attività intellettuali, e quindi è un tempo libero non inteso come noi intendiamo al giorno d'oggi la parola ozio. L'ozium è in antitesi con il negozium, ovvero le occupazioni della vita quotidiana, cioè gli affari, la vita politica, le preoccupazioni. Dal punto di vista architettonico si possono distinguere due forme per le ville. La forma cubica e compatta, come quella degli edifici pompeiani, per esempio la villa dei misteri, e la forma aperta e articolata più congeniale per identificare l'ambiente naturale circostante con la salute e il riposo fisico e mentale. La villa di forma cubica imitava gli insediamenti di ordine difensivo, e nell'idea non differiva molto dalla casa di città. Questa forma compatta metteva in risalto l'ambiente naturale e si isolava da esso. Al contrario, la villa di forma aperta si espandeva in ampi blocchi e porticati asimmetrici, e spesso veniva ampliata nel tempo poiché il proprietario era facoltoso, diventando così parte integrante dell'ambiente naturale e imitando le forme della natura nell'irregolarità della disposizione e del profilo. La villa di Adriano Attivoli è un grandioso esempio di questo tipo. In origine però, la società romana era di tipo agricolo, per cui i personaggi conservatori come Catone il Censore, di cui abbiamo già parlato, rifiutavano l'ideale di vita di campagna degli intellettuali, per cui raccomandavano frugalità, alloggi e alimentazioni semplici, e soprattutto duro lavoro. Catone in particolare ci ha lasciato un manuale di tecnica agricola, chiamato De Agricultura, dove fornisce consigli sull'allestimento di un'azienda agricola. La sua idea di villa come abitazione consisteva unicamente in un semplice riparo con minime comodità. Questo tipo di architettura è indicato come villa rustica. La villa rustica aveva un'ampia cucina, ma sembra progettata per soddisfare le esigenze degli animali più che quelle degli individui, e quindi evidentemente il proprietario non doveva trascorrerci molto tempo. Varrone, vissuto tra il secondo e il primo secolo a.C., ha scritto anche lui un trattato di tecnica agricola, chiamato De Re Rustica, e qui ci tramanda il nome di Villa Urbana, la quale era incorporata nel complesso della fattoria ed era più confortevole della villa rustica e modellata sulle abitazioni urbane. Ma anche secondo lui la villa elegante progettata per il piacere del proprietario ha un'idea degenerata. Una definizione più completa delle terminologie relative alle ville ce la dà Columella, vissuto nel primo secolo d.C., autore anche egli di un De Re Rustica. Columella ci dice che la villa rustica ospita il dormitorio del fattore e degli schiavi, stalle e recinti. La villa urbana è la resistenza del proprietario ed è elegante, con alloggi separati per la stagione invernale e per quella estiva. La villa fructuaria è la struttura adibita alla lavorazione e all'immagazzimento del vino, dell'olio e del grano. Quindi questi sono i tre elementi che facevano parte del complesso dell'azienda agricola. Poi al di fuori delle aziende vi sono due tipologie non legate ad attività agricole. Una è la villa suburbana, come la villa dei misteri a Pompei, che è una dimora appartata nei pressi delle città ma fuori le mura, costruita per condurre una vita lontana dal caos cittadino. L'altra è la villa marittima, edificata sui litorali e spesso protesa sull'acqua. In alcune pitture di Pompei queste ville marittime sono raffigurate con dei portici da dove poter contemplare il mare. Con il tempo le ville divennero sempre più lussuose e sempre più piene di comfort, come piscine, bagni, portici, eccetera. Ci siamo dilungati troppo, per cui con questo discorso mi fermo qui, ma se volete approfondire la storia della villa, anche in generale attraverso i secoli, vi consiglio di leggere il libro di Ackerman. Andiamo avanti con la storia. Con questi anni che vedremo siamo nella cosiddetta tarda età repubblicana, che va dalla fine della dittatura di Silla al secondo triunvirato, cioè l'anno 43 a.C. Dopo la morte di Silla fu Neo Pompeo a diventare leader della fazione aristocratica. Pompeo si era già distinto al fianco di Silla nella guerra civile e aveva addirittura messo a disposizione di Silla un proprio esercito. Aveva così ricevuto vari onori, tra cui il soprannome di Magno, cioè il Grande. Nel 72 a.C. Pompeo sconfisse Quinto Sartorio, un ex generale di Mario che aveva assunto il controllo della Spagna. Mentre Pompeo era impegnato in questa campagna, in Italia scoppiò la rivolta guidata da Spartaco. Spartaco era un disertore dell'esercito, che dopo essere stato catturato fu reso schiavo e mandato a capo alla scuola dei gladiatori. Ma egli non si rassegnò e coinvolse gli altri gladiatori della scuola in una rivolta. I gladiatori fuggendo si ritrovarono aggregati un gran numero di altri schiavi, braccianti e contadini poveri, che riuscirono a mettere su un esercito. Ma la rivolta venne ripressa da Marco Licinio Crasso, che nel 71 fece crocifiggere i ribelli lungo la via Appia. Nel 67 Pompeo, a capo della flotta romana, vinse contro i pirati che infestavano il Mediterraneo orientale. Nel frattempo erano riprese le ostilità con Dimitridate, che fu sconfitto definitivamente da Pompeo nel 63. Questa vittoria portò all'occupazione romana del Ponto, della Siria e della Palestina, e alla creazione di nuove province fra il 66 e il 63. Mentre Pompeo era impegnato in Oriente, Lucio Sergio Catilina, che era un esponente della fazione popolare, ordì una congiura contro il Senato, ma il tentativo venne sventato dal console Marco Tullio Cicerone, che pronunciò contro di lui le famose orazioni chiamate Catilinarie. Catilina e i suoi compagni furono condannati a morte senza diritto di appello, e questa era una novità a Roma. Così provarono a fuggire, ma furono fermati nel 62 dall'esercito romano in Etruria, dove Catilina venne ucciso. Tornato a Roma, Pompeo stipulò nel 60 un patto di alleanza con Licinio Crasso e con Gaio Lucio Cesare, un patrizio con simpatie popolari. Questo patto è noto con il nome di Primo Triunvirato e prevedeva un reciproco appoggio nell'attuazione di un programma politico e personale.